Prima corsa, europei di quattro anni ed oltre, categoria Jeep and Start, a 20 metri tra la SLA, per i 2060 metri, uno, Poseidone, Campa, Giuseppe Di Fedia, due, Duccio, due, Vidiacalario, tre, Loxet, Grip, Stefano Manzato, quattro, Pop Heart, Giovanni Scrimani, iniziate ad allinearvi, per i 2086, Rossignola, S, Sebastiano Ciraso, sette, Locia, Alessandro Russo, otto, Obelix, De Rio, Michele Vecchis, nove, Mariner Code, Enrico Colombino. Concorrenti che dalla pista da corsa passano sul tracciato interno che percorreranno in fila indiana, Mariner Code, Obelix, del Rio, Lociaro, Signola S, Parisi, Pop Heart, sette, Grip, Nuccio del Priio, Poseidone, Caffe, per poi effettuare la svolta sui raccordi. Danni a contatto con Ciraso. Piano danni adesso, guardi di fianco gli altri come vanno, vada, 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 andiamo in fondo, aspettate di girare il pronti, andiamo, 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 andiamo. Il pronti è stato dichiamato. Il pronti è stato dichiamato. se lo guardiamo non ho capito niente perché il circo si è piantato, l'altro si è avuta si è fatta per la seconda volta i nove concorrenti verso i due nastri di partenza per lo start Poseidone Cap Giuseppe Di Vede Lucio De Vecchini, Pio Calorio Riprendiamo la linea Stefano Manzato Parisi da 8 anni per il 2080 Rossegnola S, Sebastiano Ciraso Loscial, Alessandro Russo Obelix del Rio che oppone qualche difesa Marini Arcote, Enrico Colombino Danni, l'estia è a contatto con Ciraso le due file bene a contatto vado in fondo al nastro, Danni senza fermare andiamo in fondo andiamo, andiamo, andiamo 20 1, 2, 3 Ricorda Parisi che sta sbagliando Pop Heart avanti a Nuccio del Pri che è avvicino Rockset Grip così entrando in piegata con Pop Heart che continua avanti a Rockset Grip in terza posizione Nuccio del Pri in quarta dal secondo nastro veloce Marini Arcote avanti a Poseidone Cuff intanto in fronte è passata Rockset Grip Rockset Grip comanda avanti a Pop Heart in terza posizione Poseidone Cuff all'esterno intanto i 460 metri in 38, 2, 32, 6 per gli ultimi 4 Poseidone Cuff si profila a lato del leader sta passando Poseidone Cuff Poseidone Cuff ha scavalcato Rockset Grip in terza posizione rimane Pop Heart in quarta Nuccio del Pri così al completamento della piegata con Poseidone Cuff all'avanguardia completamento della curva Poseidone Cuff sempre a precedere Rockset Grip in terza rimane sempre Pop Heart 1,08 Nitti per completare gli 860 metri 29,8 il secondo quarto migliore allo Shah che passa in quarta posizione scavalcando Nuccio del Pri che è seguito da Mariner Cove poi Obelix del Rio Rossignola S in coda Parisi attacco della penultima piegata con Poseidone Cuff leader avanti a Rockset Grip poi Pop Heart con in fuori lo Shah 800 conclusivi tempo di 1,46 17,20 per gli ultimi 2 32,6 il quarto da gruppo migliora intanto Obelix del Rio mentre lo Shah si propone a lato del battistrada lo Shah che sta passando 1,56 e 2,600 finali gli ultimi 200 in 15,6 lo Shah si libera di Poseidone Cuff in terza Rockset Grip poi la progressione del favorito Obelix del Rio 2,10 e 1 in 1,6 il 60 13,9 per gli ultimi 2 29,6 per il quarto completamento della curva ingresso in dirittura con lo Shah inseguito da Poseidone Cuff lo Shah, Poseidone Cuff, Rockset Grip poi Obelix del Rio lo Shah continua nettamente in avanti detta legge lo Shah nel finale lo Shah che va a concludere davanti a Pop Heart poi Obelix del Rio Poseidone Cuff e Mariner Cove 14,8 per gli ultimi 229,8 il quarto conclusivo tempo totale di 2,39 attenzione prima di convalidare l'ordine d'arrivo la giuria si riserva di visionare il filmato del percorso intervento d'autorità dunque della giuria preseduta da Gabriele Graziani per andare a esaminare la registrazione della corsa sul traguardo 7 lo Shah, 4 Pop Heart 8 Obelix del Rio ma è tutto subiudice in attesa dell'arrivo ufficiale grazie a tutti